... Partita questa finale, avviene 55 punti, 19 giri previsti... ...15 giri previsti da meno 14, subito i punti. Partiti a bomba, siamo velocissimi e qua c'è già l'arrivo per i punti di meno 14. 111 e 320 è il primo passaggio dei meno 14. ... ... ... ... ... ... 2-9-2-2-6-2 passaggio dei meno 13. ... Passaggio dai meno 12 punti in paglio 7262 è il passaggio dai meno 12 Ma intanto c'è già il passaggio ai punti di meno 11 E l'atleta di casa nulla 292 104 è il passaggio dai meno 11 292 104 è il passaggio dai meno 11 Passaggio dai meno 10 39 18 Ammunizione per il numero 7 Montiero Fabio Passaggio dai meno 9 Meno 9 passaggio punti 292 7 è il passaggio dai meno 9 Ancora l'atleta Mulai Che porta a casa due punti Seguito dall'atleta Montiero con un punto Passaggio dai meno 8 punti in paglio 7292 passaggio Passaggio dai meno 7 punti in paglio Passaggio dai meno 7 punti in paglio 292 927 si sono alternati i ragazzi dal giro precedente Stanno facendo Hanno fatto due o tre giro precedenti in paglio Hanno fatto due o tre giro Hanno fatto due o tre giro il sciro Passaggio dai meno 6 punti in paglio Passaggio dai meno 5 punti in paglio Passaggio dai meno 5 punti in paglio 2 non è meno 7 punti in paglio Passaggio dai meno 6 punti in paglio Prima munizione, bossi neonati. Passaggio dai meno 3 e punti in palio. 304-262 al passaggio precedente dei meno 3, ma adesso vi diamo subito il passaggio dei meno 2 e punti in palio. 104-113 al passaggio dei meno 2. Passaggio dei meno 1, campana dell'ultimo giro. 2-9-2-7 è il passaggio del meno 1, abbiamo sentito la campana. Ultimo giro, ultimo sforzo per il passaggio finale 3-2-1. 2-9-2-7 è il passaggio del passaggio. Sto pa uno sforzato 2-8-5, ha distinto la campana alli Grazie.